Inaugura il prossimo 14 maggio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la 28esima edizione del Salone del Libro, in programma all'ingotto di Torino fino al 18 maggio. Germania e Lazio sono rispettivamente la nazione e la regione ospiti, il filo conduttore e le meraviglie di Italia. Anche quest'anno il Consiglio regionale sarà presente nello stand delle istituzioni piemontesi. Molti gli appuntamenti in calendario per presentare le recenti novità editoriali e le iniziative delle consulte e dei comitati. Presentiamo questa 28esima edizione per cui siamo più che contenti perché abbiamo veramente un'esplosione di partecipanti e di espositore che non credevamo, visto le circostanze e la congiuntura poco favorevoli, ma anche tutti gli convenisti, tutti gli intellettuali, tutti gli scrittori che sono venuti e hanno bussato alla porta comunque sempre benevolente del dottor Ernesto Ferrero ci conferma che il Salone è un fatto assolutamente imperdibile.